La vita è molto lunga, T.S. Eliot, non è stato il primo a dirlo, certamente non è stato il primo a pensarlo, ma aveva dannatamente ragione. Sei pronta? No, per niente. Ciao mamma, sono arrivata! Come sei grande! E guarda che te, te l'ultima volta che ti ho vista sembravi un maschietto! Maledico tuo padre per avermi fatto questo! Te la ricordi, zia Karen? Quello deve essere il fidanzato di turno. Presto partirai e non tornerai mai più. No, non cominciare. A tuo padre gli hai spezzato il cuore quando sei andata via. Sei veramente cattiva. Tu eri la preferita di Beverly, lo sai? Io preferisco pensare che amasse le sue figlie nello stesso modo. Tu preferiresti anche pensare che hai Babbo Natale a portarti i regali. Mi sono perso il funerale di zio Beverly. Non significa niente in confronto a quello che hai nel cuore. Bella, dove vivi adesso? Come, prego? Tu e Barbara siete separati, no? O avete già divorziato? C'è di mezzo una donna più giovane? Hai già detto abbastanza. Sì. Visto? Abbandono ogni speranza, amore. che carina. Ai miei tempi le famiglie restavano unite. Grazie a Dio non prevediamo il futuro o non ci alzeremo più dal letto. Il matrimonio è difficile. Papà con mamma è stato bravo a farlo durare. Karen, papà si è suicidato. Anno. Palma è stata buona. Grazie a tutti.